Piange di rotto Sabrina Misseri, la 28esima udienza in corte d'assisi a Taranto sul delitto di Sara Scazzi si apre proprio con le dichiarazioni della 24enne. La madre invece Cosima Serrano decide di non parlare davanti al giudice. Sabrina nella sua testimonianza a fiume durata circa 7 ore ricostruisce incalzata dalle domande del PM Mariano Buccoliero i rapporti con la cuginetta, con Ivano e ripercorre anche le ore del pomeriggio di quel 26 agosto del 2010 in cui la 15enne fu uccisa. Una deposizione quella di Sabrina è interrotta più volte dalle lacrime, sono innocente, ha ripetuto singhiozzando e a più ripresa e la Misseri io non centro niente. Ancora, reputavo Sara una sorella minore, non una cugina e le trattavo di conseguenza, qualche rimprovero sì ma non litigi ha detto. E ancora rispondendo a proposito del rapporto con Ivano Russo ha aggiunto Ivano mi piaceva, c'era anche attrazione fisica tra di noi ma non ero innamorata di lui. Quindi ha confermato un rapporto sessuale con Ivano comunque non completo, ha aggiunto. Sabrina inoltre ha escluso il litigio la sera prima del delitto, il 25 agosto, con la piccola Sara dicendo invece che si sarebbe trattato soltanto di un rimprovero. Ha ammesso di non aver consegnato immediatamente i diari della cuginetta ai carabinieri sbagliando, di comune accordo con gli zii, i diari in cui Sara ammetteva proprio la cotta per Ivano. Tra le lacrime poi Sabrina ha detto che per l'omicidio non c'entra niente il momento della gelosia e che è stata fatta confusione tra protezione e gelosia. Poi tra le lacrime ha aggiunto ho fatto due anni di prigione da innocente. Alcune incoerenze sarebbero emerse infine per l'accusa nella ricostruzione delle ore del delitto, nello specifico su quanto riferito da Sabrina sugli abiti di Sara e sulle telefonate alle 15enne proprio quel pomeriggio. Tutti aspetti questi che saranno ripresi nella prossima udienza lunedì e martedì prossimo quando l'accusa terminerà il suo interrogatorio e poi sarà la volta del collegio difensivo.